Musica Oggi si chiude anche il millenario a Camaldoli dopo un periodo intenso di celebrazioni Sì, e oggi salgo ora a Camaldoli, all'Eremo, nella festa della trasfigurazione del Signore a cui è dedicata la Chiesa dell'Eremo, a chiudere il millenario che ha visto veramente ammirare il mondo intero a cominciare dal Papa verso questa nostra realtà retina che è Camaldoli